sento che manca qualcosa non è quello che ho fatto a me è successo questo a 27 anni nonostante giovane proprio oggi ha fatto bioenergetica gestalt osso che allora si chiamava bagwan rasnish training autogeno sentivo che mancava qualche cosa è arrivato un angelo nella mia vita che è stato un marlena la mia prima moglie brasiliana e siamo finiti in brasile e lì ho visto che cosa mancava e ho anche trovato cosa mancava questo per dirvi uno che appunto il viaggio come dire che una trasmette alla fine trasmette se stesse quello che ha che ha compiuto no per cui so di cosa parli quando dici manca qualcosa dall'altra mi consente di dare io mi immagino che qualcuno di voi perché non è stato per me per anni all'inizio posso dire ma cosa c'entra questa storia degli archetipi brasiliani eccetera non lo so cosa c'entra non lo so neanch'io è successo anche a me cioè sono finito in brasile però attraverso le esperienze brasiliane io ho riscoperto la spiritualità ho riscoperto cristo per esempio comunque tutto c'è la spiritualità in genere e quindi qualsiasi dimensione perché il trans personale anche c'è la dimensione religiosa delle varie tradizioni culturali e religiose è un livello la dimensione spirituale un altro livello non queste sono porte per nessuno spirituale che oltre traccia anche qui trascende include quindi parlare di orisha o parlare di degli archetipi junghiani o parlare dei deva del buddismo è assolutamente da un certo punto di vista la stessa cosa dall'altra però un marcia in più e qual è la marcia in più che a mio avviso una delle marcia in più che può avere questo discorso del perché uno dice ok gli archetipi no gli archetipi junghiani gli archetipi dell'astrologia gli archetipi delle divinità greche ma qual è la differenza lavorare con degli archetipi che sono nel nostro caso gli orisha che sono stati sistematizzati all'interno di un approccio appunto psicologico trans personale eccetera vuol dire lavorare con qualche cosa di vivente c'è se uno va in brasilia trova gli orisha trovi culti che vengono dall'africa sono ben africa li trova è ovvio che se tu vai in africa in brasilia trovi questa cultura immersa nel mondo un mito magico superstizioso e quindi come dire noi non siamo per fortuna nella dimensione magico superstiziosa e nemmeno ovviamente viene riproposta all'interno di un percorso formativo ma questo e questi sono gli stati pensi lo stadio di pensiero nel quale queste tradizioni sono attualmente sono uno stadio magico superstizioso ma lo stato di coscienza che ti consente di vivere un certo di coscienza altra mente unitivo quindi e questo si chiama nella tradizione asce c'è la forza spirituale di un archetipo se io ti dico terra tu pensi che ne so magari al pianeta terra o pensi a terra inquinato pensa al pavimento sotto di te se ti dico nana che rappresenta la terra ti parlo ti trasmetto una forza spirituale non hai la divinità della terra e cosa vuol dire come pacciamama come durga e cosa vuol dire la divinità della terra vuol dire che ogni volta che io cammino posso sentire che sto dialogando con una forza sacra che è una cerimonia che ci sono qualità risorse che la madre in ogni istante mi ricorda guarda che io sono qua tu sei lì persa nei tuoi pensieri nei tuoi drammi e cerchi di risolverli e perché mai dimenticarti che io ti sto dicendo guarda che io ci sono hai avuto una madre assente o una madre disastrosa ok ma tra te e me c'è tua madre lasciala perché le qualità del materno le qualità archetipiche del materno le puoi sentire se tu ti permetti di stare in contatto con me questo vale per il parimento ovviamente vale maggior ragione se sei in un bosco vale se sei percepire la forza quindi lasciè si dice la forza spirituale di un archetipo è qualche cosa che ti dà molto di più che non si la terra dunque a jung dice terra uguale sensazione va bene queste sono delle qualità ma queste qualità sono dei principi viventi che hanno una forza la in brasile io ho sentito questo perché è vivente pur all'interno di dimensioni come ho detto magico superstiziose molto c'è c'è manipolazione c'è c'è mistificazione trovi di tutto anche però trovi quella quella essenza primordiale quella sorgente che poi se tu purifichi e questo è il lavoro che abbiamo cercato di fare e lo organizzi con un pensiero integrale quindi sovra razionale non dogmatico world centric si dice mondo centrico transculturale poi a disposizione una forza che conferisce a le tue competenze alle qualità del sé un potere e anche la tua metodologia se tu lavori con una persona e l'aiuti a sentire che in ogni momento qualsiasi sia prima di occuparti del suo problema o anche nell'affrontare il suo problema espandi la coscienza di acqua e gli ricordi che c'è una madre compassionevole che ti sostiene capisci che il tuo problema diventa infinitamente più facile da affrontare anzi intanto diventa molto più piccolo ti accorgi forse che è un'illusione ti accorgi che il dramma che hai avuto con tua madre non è che te lo toglie nessuno te lo devi affrontare ma te lo affronti in un modo molto più agevole grazie a tutti Grazie a tutti